Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo della dinastia Flavia. Prima però lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Sapete inoltre che è una playlist dedicata alla storia per la seconda e superiore e ve la lascio. Iniziamo subito da Unannus Horribilis. Siamo nel 69 d.C. Nerone è morto da un anno e in questo anno orribile si succedono ben quattro imperatori. Galba, Otone, Viteglio e Vespasiano. Galba è un comandante delle legioni romane sostenuto dal senato. Otone viene sostenuto dai pretoriani. Viteglio comanda le legioni in Germania e Vespasiano comanda le legioni in Oriente. Bene, dopo che abbiamo focalizzato un po' questi quattro imperatori, approfondiamo. Alla morte di Nerone, Servio Sulpicio Galba, che governava parte della Spagna già dal 60 d.C., diventa imperatore e va a Roma. Galba, come vi dicevo, è sostenuto dal senato, però i pretoriani non è che lo guardino tanto di buon occhio, perché loro vorrebbero un altro candidato. Tra l'altro, Galba ha la geniale idea di nominare anche un successore, Pisone Frugi. E quindi il malcontento aumenta. In particolare aumenta per Otone, che come dicevamo, era sostenuto dai pretoriani. Era stato molti anni vicino a Nerone, quindi si aspettava di prendere lui il potere. Otone allora dice, organizziamo una bella rivolta e prendiamo il potere. Galba si trova a Palazzo e viene ucciso da una congiura di pretoriani e ce lo racconta tacito nelle storie. Pensate bene che la testolina di Galba e anche quella di Pisone Frugi vengono trasportate lungo le strade di Roma. Testoline mozzate, chiaramente. Così racconta Tacito. Così abbandonò la vita Servio Galba. Aveva 73 anni, era vecchio Galba, quindi andava bene, secondo i senatori, perché sarebbe durato poco. Era vissuto in buona sorte sotto cinque principi ed era stato più fortunato durante il principato altrui che durante il proprio. La sua era una famiglia di antica nobiltà. Grande il suo patrimonio. Quanto a capacità era un mediocre, che non possedeva grandi virtù, ma anche privo di vizi. Quindi andava benissimo, secondo i senatori. Una pedina. Il successo gli faceva gola, ma non era un fanfarone, non attentava ai patrimoni altrui e, se era parsimonioso con il proprio denaro, sembrava persino avaro quando si trattava del denaro pubblico. Trattava amici e liberti. Se erano brave persone, con un'indulgenza, niente affatto biasimevole. Se erano malvagi, fingeva di non accorgersene. In ogni modo, gli illustri natali e la paura che contrassegnava quei tempi, perché non so se vi ricordate quante congiure caratterizzavano i tempi durante l'età di Nerone, e lo mascherarono con saggezza quella che era apatia. Nel fiore degli anni si conquistò buona gloria in Germania, resse da proconsole con grande avvedutezza all'Africa e con ugual senso di giustizia alla Spagna. Quando era già anziano, finché rimase privato cittadino, sembrava che avrebbe meritato qualcosa di più e, per consenso di tutti, era considerato degno del principato, se non fosse divenuto imperatore. Perché poi, quando diventa imperatore, disastro! I pretoriani, quindi, proclamano Otone imperatore, mentre le minizie insediate in Germania nominano Viteglio. Quindi, sì, Galba è fatto fuori, ma non è che Otone trova subito la possibilità di salire al potere. Perché? Perché in Germania, invece, le milizie dicono, ma noi vogliamo Viteglio, non vogliamo Otone. Quindi Otone e Viteglio si scontrano in una guerra civile che si conclude con la morte di Otone, che si suicida. Allora sale al potere Vespasiano, che tutti ricordiamo per i bagni. No, non solo, però sicuramente, fino a qualche anno fa si parlava di Vespasiani, adesso non si usa molto questo termine. Alla nomina, quindi, di Viteglio, le legioni orientali e alcuni governatori si accordano per portare al potere Vespasiano. Queste truppe orientali marciano verso Roma e trovano anche dei nuovi alleati, addirittura in Germania, in Gallia, nella zona del Danubio, in Spagna. Venite tutti qua, che noi dobbiamo arrivare appunto a Roma. Nel 69, le truppe fedeli a Vespasiano vincono le guerre e lui diventa imperatore. Con Vespasiano inizia la dinastia Flavia, dopo questo anno veramente terribile. Dal 69 al 79 dopo Cristo abbiamo Vespasiano e poi avremo Tito e Domiziano. Appena sale al potere, Vespasiano dice qua, con questi, bisogna stare attenti. Quindi facciamo una legge e ribadiamo che sono io l'imperatore. Perché abbia diritto e il potere di fare ed effettuare tutto ciò che riconoscerà utile per lo Stato e gli rechi grandezza nelle questioni divine e umane, pubbliche e private, come spettò da Augusto, Tiberio e Claudio. Quindi Vespasiano dice, ok, mani avanti, il potere all'imperatore. Il suo impero caratterizzato da un'attenta politica economica, vuole riassestare le casse dello Stato, che Nerone diciamo aveva un po' svuotato, demolisce la Domus Aura, però fa costruire, lo saprete, l'anfitreatro Flavio. Cioè il Colosseo, il Colosseo l'ha costruito Vespasiano, quindi non è soltanto l'imperatore che spesso associamo ai Vespasiani, l'ho detto ironicamente, è l'imperatore dell'anfitreatro Flavio Vespasiano. E integra le province, quindi aumenta il numero di provinciali in Senato e dà la cittadinanza ad alcune città, importante per il processo di romanizzazione. Ecco qui i Vespasiani. Dunque, perché il Vespasiano? Perché il Vespasiano decide di tassare l'orina, che era un bene molto prezioso per i fullones, cioè i lavandai. Perché secondo voi? Perché l'orina funzionava come ammoniaca per lavare i panni, peraltro l'orina veniva utilizzata anche, essendo che poi contiene ammoniaca, non durante l'età romana, ma durante il Medioevo per rendere i capelli più biondi. Comunque, Vespasiano quindi decide di tassare l'orina, perché pecunia non olet, perché i soldi non puzzano. Quindi non importa dove provengano, di fatto, secondo Vespasiano. Durante il regno di Vespasiano ha anche fine la rivolta giudaica. Noi abbiamo parlato degli ebrei, abbiamo parlato della distruzione del Tempio, che avviene più volte nella storia del popolo ebraico, ma anche ad opera di Tito, quindi nel 70 d.C. Quindi lui distrugge il Tempio, il figlio di Vespasiano, e conquista Gerusalemme. Certo, gli ebrei non sono contenti di essere conquistati dai romani, e quindi diciamo che una parte degli ultimi oppositori si riunisce a Masada. Però Roma la espugna, e quindi questi oppositori, pur di non darsi al popolo romano, praticano il suicidio collettivo. Tito però, dal punto di vista, diciamo, dei romani, viene visto molto positivamente, no? Perché ha risolto la situazione in Oriente, addirittura torna a Roma, e bisogna celebrare il suo trionfo con l'arco di Tito, che ancora si vede a Roma. Tito è conosciuto, se il papà è quello dei Vespasiano, no, è l'imperatore dell'Anfiteatro Flavio. Tito è conosciuto come una delizia del genere umano. Sale al potere nel 79, quando muore Vespasiano, e il suo regno è breve, ma giusto. Riprende anche le scelte politiche del padre, e si ritrova in una situazione molto difficile, quella dell'eruzione del Vesuvio. Pompei ed Ercolano sono distrutte. Dal vulcano, quindi al Vesuvio, fuoriesce una colonna di fumo, che arriva addirittura a 30 km d'altezza. E il flusso piroclastico è velocissimo, quindi ricopre sotto metri e metri di materiale le città, in pochissimo tempo, si dice in quattro minuti probabilmente. Non sono mai stata a Pompei ed Ercolano, è un mio sogno andare a visitarle. Nel corso degli scavi, però, sono state proprio trovate le vittime, e ci sono i calchi delle vittime, no, che sono esposti al museo, e realizzati grazie proprio a una tecnica speciale di un archeologo, Giuseppe Fiorelli, qui ve le faccio vedere, no, l'ultimo abbraccio di una coppia, una famiglia. Sono dei calchi terribili, che mostrano ancora le espressioni di dolore di questi abitanti, che sono stati sorpresi dall'eruzione del Vesuvio. Tito, non solo, nell'Ottanta fronteggia anche l'incendio di Roma, peraltro, vedete, a Roma ci sono spesso incendi, no? Anche Nerone era stato accusato erroneamente dell'incendio di Roma, e anche qui Tito si ritrova a dover agire, no? Costruisce terme, acquedotti, strade. Nell'Ottantuno, abbiamo detto che il regno di Tito è breve, sale al potere Domiziano, quindi abbiamo detto Vespasiano, l'Anfiteatro Flavio, e i Vespasiani, la Pecunia, Nonolet. Tito è la delizia del genere umano, ricordiamoci la distruzione del Tempio, e ricordiamoci soprattutto anche le sue capacità di gestione di due cataclismi, che sono l'eruzione del Vesuvio e l'incendio di Roma, e poi abbiamo Domiziano. Lui governa in modo assoluto, sale al potere nell'Ottantuno d.C. e si fa chiamare Dominus Edeus. Diciamo che lui è un po' megalomania, portami via. Cerca però di espandere l'impero, quindi consolida la conquista della Britannia, costruisce l'IMES, quindi proprio il confine germanico, e combatte anche il Senato perché cerca di ingraziarsi i ceti popolari. Però Domiziano non è che piace proprio tanto, anzi, il fatto di combattere il Senato e ingraziarsi i ceti popolari lo porterà poi ad essere vittima di una congiura. Nel 96 d.C. infatti viene ucciso a palazzo perché volevano nominare al potere Nerva, e quindi Domiziano era scomodo. Anche lui è condannato alla damnazio memoria e cancellazione dalla memoria di Domiziano, così come era accaduto a Caligola, come era accaduto a Nerone, quindi questi personaggi così scomodi ma che storicamente ci affascinano tantissimo. Alla prossima video-lezione!